Sono le piccole imprese che rischiano la chiusura definitiva a causa dell'emergenza sanitaria. In Italia in bilico il 20% delle attività commerciali, almeno il doppio in provincia di Foggia. L'allarme di Confcommercio che evidenzia come l'emergenza può mettere in ginocchio l'intera economia di una provincia già martoriata da anni di crisi. E se le grandi imprese si stanno faticosamente mettendo in moto, le micro imprese boccheggiano con il poco ossigeno erogato dallo Stato. Se i proclami del governo dicono da Confcommercio Foggia restano tali, il tracollo è davvero dietro l'angolo. Alcune aziende del Foggiano, poche a dire il vero, hanno anticipato gli stipendi di marzo e aprile dei propri dipendenti in attesa dei ristori promessi dallo Stato. In PS e regioni si rimbalzano le accuse di inefficienza, ma la regione Puglia si smarca e presenta una serie di buoni propositi con lo stanziamento di parecchi milioni di euro da destinare soprattutto alle imprese in difficoltà che hanno lasciato a casa una consistente percentuale di lavoratori anche dopo il 4 maggio. Si punta soprattutto al microcredito a fondo perduto per le piccole attività artigianali.